Il Picerno riscatta il KPO infrasettimanale sul campo del Monopoli e impone la legge del Curcio alla Juve Stabia. 1-0 per il team di Emilio Longo che grazie al centro di De Cristofaro a un quarto d'ora dalla fine sorpassa gli avversari in classifica e sale a braccetto con il Cerignola al quinto posto con 38 punti. Le formazioni Picerno con il 4-2-3-1 ancora out Reginaldo e Dettori. Ci sono Golfo, Cuda e Ceccarelli a supporto di Diop in difesa fiducia a Gonnelli. 4-3-3 per la Juve Stabia, Altobelli sostituisce lo squalificato Caldore e fa coppia con Cinaia in difesa. Assilipo il compito di ispirare Pandolfi e D'Agostino nel tridente. Parte meglio il Picerno, Ceccarelli tenta di sorprendere, Barosi su punizione e tiro a giro che finisce fuori. Prima mezz'ora con pochi squilli, prova a irrompere nel torpore Diop che con un destro violento dal limite chiama Barosi alla deviazione aerea. Juve Stabia che fa fatica a trovare spazi per vie centrali, Mignanelli prova allora a inventare da sinistra, il suo cross non trova deviazioni amiche. Al 33esimo De Cristofaro servito da Golfo ci prova dalla media distanza, respinge in due tempi Barosi che si ripete poi su Diop, partito però in posizione irregolare. Risponde la Juve Stabia nel finale, tentativo di incursione di D'Agostino il cui tentativo è murato in corner. La ripresa parte con un brivido, uscita a vuoto di Barosi sul corner di Ceccarelli, pallone che attraversa l'area senza che nessuno lo spinga dentro. Clamorosa occasione per i padroni di casa al 52esimo, Cuda calcia tentativo respinto, poi arriva Golfo che spedisce alto sulla traversa da ottima posizione. Ancora Picerno pericoloso, da corner, Gonnelli e Garzia si ostacolano e non riescono a colpire a rete in area piccola. Preludio al vantaggio, azione manovrata che porta guerra al cross, traiettoria che piomba sul secondo palo dove De Cristofaro colpisce indisturbato di testa e beffa Barosi. Secondo centro stagionale per il centrocampista, immediata chance per il raddoppio del team di Longo, azione che passa da De Cristofaro e Albadoro fino a Ceccarelli, sinistro a giro. Barosi c'è, la reazione della Juve Stabia non produrrà pericoli concreti per la porta di casa, secondo K.O. di fila per le Vespe. Picerno che si prepara con una vittoria al derby di domenica prossima sul campo del Potenza.